Radio Bruno Associazione Tradizioni Agricole cresce, Massimo lo scorso anno la prima edizione della festa in Cascina, quest'anno si ripete? Quest'anno sì, ripartiamo, abbiamo avuto un successo direi al di fuori dalle nostre aspettative lo scorso anno, la gente è arrivata, come abbiamo detto l'altra volta abbiamo aperto la Cascina al pubblico pensando che fosse attenzionata questa apertura dal pubblico ed è stata veramente attenzionata, è arrivata un sacco di gente, bambini, famiglie e diciamo che il fatto che è arrivata molta gente, molto pubblico, locale e anche non perché sono arrivate famiglie da Desenzano, per noi è un obiettivo lungimirante e come dicevo prima il fatto che sia andata così bene ci ha dato lo stimolo per fare la seconda edizione, tant'è che quest'anno riproponiamo diciamo sulla falsa riga di quella dello scorso anno la seconda edizione, sempre l'ultimo weekend di agosto probabilmente diventerà un must per la nostra festa e si riparte con una nuova edizione, abbiamo un po' rinnovato il nostro ambiente, abbiamo ampliato gli spazi, diciamo ampliato, pulito gli spazi e sistemato alcuni spazi in modo che ci sia più possibilità di godere l'ambiente cascina, abbiamo lavorato molto, i volontari nostri hanno dato tutto quel che potevano, anche di più lo posso assicurare e sicuramente io senza di loro non farei nulla, ringrazio pubblicamente tutti i miei volontari, nello specifico Roberto Vitali che è il mio vice e che sta facendo un lavoro enorme, ma anche tutti gli altri, tutti gli altri del consiglio si sono aggiunti anche a soggetti nuovi, si è aggiunto un ragazzo che sta studiando onologia a Trento, è Lorenzo Festa e si è avvicinato a noi e sta seguendo il nostro vigneto, quest'anno non andremo probabilmente a produrre un vino doc, ma comunque ci proveremo a settembre, proveremo a fare la spremitura e avremo, anche se siamo al secondo anno, quindi l'uva è ancora, per quel che mi dicono appunto loro, che dice l'enologo, è ancora prematuro provarsi, però proprio per calibrare il tiro ci proviamo e avremo anche il vino in cascina come tutte le cascine lombarde, nel periodo dove noi ci proiettiamo, che sono gli anni 50, a livello di storicità, di tradizione, avevano la cascina, aveva il vigneto, aveva queste attività che noi andiamo un po' a ripercorrere anche durante la festa. La festa di quest'anno, un calendario simile a quello dell'anno scorso? Un calendario sì, molto simile allo scorso anno, le due giornate piene che ho visto che sono state apprezzatissime, quindi cominceremo con la solita colazione in cascina, quindi brioche, caffè, pane marmellata, queste cose della tradizione e poi il programma della giornata si sviluppa il sabato su attività che sono legate appunto alla fattoria, agli animali, con la possibilità di toccare con mano gli animali, di toccare con mano le attività. Quest'anno poi avremo ospiti la fattoria di Pontoglio con i loro attrezzi e carri che si piazzeranno qui nel prato avanti e avranno proprio un'attività consona alla nostra, dove ci saranno animali, ci saranno addirittura dei buoi. Proseguiamo verso il pomeriggio, il pomeriggio ci sarà una messa, ci tengo a sottolinearlo, una messa celebrata dal nostro don nella chiesetta storica della cascina dove andremo a ricordare alcuni defunti che sono stati vicini all'associazione e alla cascina. Nello specifico, questo mi permetto di dirlo, Giacomo Bariselli perché è stato un mio carissimo amico, ha vissuto qui, è stato sempre amico dell'associazione e purtroppo se n'è andato poco tempo fa. Il trattore che vediamo qui al lato è il suo e ce l'ha lasciato qui in cascina e quindi dedichiamo questa messa a loro, poi andiamo ad inaugurare un defibrillatore che posizioneremo qui in cascina appunto che sia fruibile sia al pubblico della cascina che anche al pubblico esterno, quindi chi andrà a passeggiare nelle campagne qui attorno oppure le cascine, le attività, questo verrà geolocalizzato e di conseguenza verrà reso pubblico a tutti gli effetti. L'abbiamo diciamo promosso noi, abbiamo trovato degli sponsor che ci hanno dato molto coraggiosamente il contributo sufficiente per acquistarlo e posizionarlo, quindi andremo ad inaugurare quello. La sera poi ci sarà, e questa è un po' la novità di quest'anno, il bue allo spiedo, quindi lo spiedo tipico della campagna con il bue che è un animale proprio della cascina, la recita teatrale della compagnia del Berrider quando ci porterà in cascina una recita proprio sempre sul tema agricolo e la termineremo il sabato sera in questo modo. La domenica invece cosa ci aspetta? La domenica ci aspetta la nostra apertura il mattino presto, alle 8 siamo in cascina, colazione, cavalli, animali. Abbiamo poi un gruppo di ragazzi giovani e amici che si prenderanno diciamo la scena, il nostro palco per un paio d'ore che sono i ragazzi di Terra Giovane in questo gruppo di ragazzi che si è un po' unito proprio per fare del percorso lavorativo assieme e socializzano e si danno una mano anche a livello burocratico tra di loro. Questo gruppo di ragazzi appunto di Terra Giovane che raggruppa ragazzi che lavorano nel territorio agricolo della provincia di Brescia, Cremona, Mantua, li ospitiamo qui sul nostro palco, faremo poi un aperitivo assieme a loro dopodiché facciamo un pranzo con diciamo le pietanze della cascina quindi grigliata, pane salamina, croste di formaggio e così via tagliata per chi la vuole, il pomeriggio attività, giochi della tradizione quindi potremmo fare magari anche un ciancolo queste cose qualcuno vorrà farlo, addirittura il piantachiodi che erano i giochi di una volta e termineremo la giornata la sera con il nostro risotto tipico della cascina che è il risotto al Franciacorta quest'anno lo abbiniamo con una robiola diciamo nostrana dopodiché la sera andrà a vedere protagonisti il gruppo musicale Il Lemon che proporrà dei brani musicali ballabili e anche di folklore e termineremo la nostra serata in questo modo con l'augurio che il tempo regga perché c'era qualche previsione burrascosa ma probabilmente qualcuno ha guardato ha guardato verso di noi e ha spinto il temporale avanti di qualche giorno quindi dovremmo farcela Hai parlato di meteo rispetto allo scorso anno i giorni che precedono la festa sono molto più caldi Quest'anno sì, quest'anno a livello di meteo io non voglio pronunciarmi però è stato un anno abbastanza caldo bistrattato per i nostri agricoltori ha messo in difficoltà purtroppo tanti di loro perché prima con la siccità poi li ha un po' aggraziati perché il mais è cresciuto i foraggi sono cresciuti però anche il nostro stesso mais della polenta nera della nostra polenta di coccaglio ha subito dei danni perché la grandina e il vento l'ha un po' danneggiato ma noi non ci scoraggiamo tant'è che stiamo collaborando con l'amministrazione comunale proprio per arrivare ad avere grazie al nostro mais e alla nostra farina prodotta proprio qui in cascina con il nostro mulino ad arrivare ad avere una deco a livello comunale che ci darà una soddisfazione anche personale sulla nostra volontà di portare un progetto avanti tornando a parlare della festa quella di quest'anno è un'edizione che cade nell'anno di Bergamo Brescia capitale della cultura promuoviamo ancora la tradizione bresciana promuoviamo la cultura bresciana attraverso la storia di un passato ma io direi che promuoviamo la tradizione la cultura bresciana ma assolutamente intrecciata anche con quella bergamasca noi abbiamo degli amici di Bergamo abbiamo Paolo Vallotti che è il nostro esperto della maiscoltura che era dell'istituto maiscoltura di Bergamo che è nostro amico e probabilmente interverrà anche lui appunto domenica con i ragazzi e io sposo diciamo la teoria del collaborare io poi lavoro da 30 anni con i bergamaschi quindi non ho nulla da recriminare non sono contro i legami contro le collaborazioni e non ho spiriti Brescia Bergamo rivali o queste cose anzi assolutamente no storie di cascine che si intrecciano l'albero degli zoccoli è un esempio l'albero degli zoccoli sì un grande esempio girato appunto nella pianura bergamasca è stato diciamo un film che ha commosso tanti di noi tanti di noi visto che siamo ad una fascia d'età medio alta e naturalmente qui in cascina in qualche verso noi andiamo un po' a rivivere quelle emozioni e vorremmo farle rivivere anche ai nostri giovani e comunque a chi ci viene a visitare in modo che possa capire quello che sono le nostre tradizioni non avendo nulla contro i prodotti innovativi o le farine di grillo per l'amor di Dio io posso rispettare tutti però non dimentichiamo da dove siamo arrivati chi siamo e quindi apprezziamo anche la nostra storia le nostre piccole tradizioni probabilmente le nostre tradizioni non sono ancora storia non sono ancora scritte sui libri ma hanno un valore aggiunto non indifferente